musica 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 vai 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 entrate Entra Lorenzo, entra Aspetta, portare la luce e immagini... Tessere? Tessere Oh mamma mia, Lorenzo Che bella musica Sì Andiamo a vedere Davvero? Oh Che figo Ma è un carro Che figo Che meraviglia Ma è proprio tipo una suite Che meraviglia Ma è che super televisore poi Che meraviglia scopi mano Vero? Sì Ma io non voglio andare in un altro bar Ma io non voglio rivedere qui Ecco Dobbiamo fare una notte qui E una notte di là E come no? Dobbiamo vederli tutti e due Vediamo un po' che c'è qui dentro Vediamo il bagno com'è Certo che c'è il bagno Bello, eh? Che bello Vediamo la doccia com'è Spaziosa pure la doccia Molto spaziosa E poi Vai Vieni dai Eccola Bella no? Di bello ma Di fa pipì No Ma E vai Ti vedi che Non mi piace Comodo? Ecco Mamma Voglio fare un po' di calconi Vediamo Non mi piace Ci ho conmica moglie Conmica moglie Conmica moglie Ci muuğa Si Vai buonanotte